Il Tribunale di Paola e la sede di staccata di Scalea potrebbero essere salvi. Sulla preannunciata soffressione, prevista dalla riforma sulla geografia giudiziaria italiana, si tira un sospiro di sollievo. Ci sono infatti buone probabilità che il Ministero decida di mantenere in vita i due presidi dell'Alto Tirreno Cosentino. La notizia arriva dalla CGL dopo l'incontro di martedì scorso a Roma. Un tavolo tecnico convocato dal Ministero di Giustizia con i sindacati solo per discutere dei tribunali delle regioni meridionali, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. Per la funzione pubblica della CGL calabrese l'incontro è stato molto positivo. Siamo certi, sostengono dal sindacato, che il Ministero terrà conto delle nostre richieste formulate in riferimento ai criteri previsti dalla legge delega. Il Tribunale di Paola e la sede di Scalea non sono sopprimibili sia per il numero di affari civili e penali pendenti che per il forte impatto della presenza della criminalità organizzata. Inoltre, spiegano dalla delegazione regionale e sindacale, la Commissione tecnica non può non considerare la condizione orografica della provincia. Accorpare i piccoli tribunali a quello di Cosenza è impensabile anche per distanza chilometrica e vie di comunicazioni carenti. Un territorio fortemente devastato da attuali guerre di mafia, come quello calabrese, e concludono i sindacalisti, non può ricevere dallo Stato queste risposte. Il presidio di legalità non può essere affidato solo alle caserme dei carabinieri o ai commissariati di pubblica sicurezza. Situazione simile nella vicina Basilicata. I sindacati hanno espresso la necessità di mantenere il Tribunale di Lago Negro per la distanza da potenza, ma soprattutto per l'importanza territoriale essendo zona di confine tra Campania e Calabria, regioni con un alto tasso di criminalità. E anche sul Tribunale di Sala Consilina potrebbero esserci buone probabilità di salvezza. Con l'incontro il 17 aprile dunque si chiude il tavolo delle trattative. Ora l'ultima parola spetta al Governo centrale.